Salve, siamo qui con un amico a Cesenatico e con un'altra. Vabbè, qui su qui sarà un video che faremo su Cesenatico. C'è pure una pista di battinaggio. Pista di battinaggio? Io ci voglio andare! Allora, vediamoci. Qui è una cosa bella da morire. Veramente, è troppo bella. Anche se c'è un po' di freddo, però vabbè. Andiamo a vedere, papà. Andiamo a vedere come battinano. Guardiamo come battinano. Viviamo. Aspettate ad arrivarci. E' la prof che ci credeva. Grazie.